Eccoci qua, signore e signori, benvenute, benvenuti, ben ritrovati, sono Francesco Toniolo, sono un docente universitario, mi occupo principalmente di videogiochi. Oggi continuo un discorso che era già stato avviato in un altro video, metterò poi ovviamente il link in descrizione, e anche il link a questa live su Twitch di GameRomancer, da cui insomma era nata un po' anche qualche mia riflessione, c'era questo mio interesse a commentare un paio di punti che erano emersi, vedo tra l'altro proprio questa mattina che anche loro hanno realizzato altre cose, c'è questo podcast che non ho ancora ascoltato, però ho visto i post che sono stati fatti, vedo che insomma ormai abbiamo questa corrispondenza ad amorosi sensi foscoliana, quindi visto che poi questa corrispondenza è con i morti, probabilmente il defunto sono io, loro sono i vivi, e quindi in realtà appunto è anche per quello che comunichiamo a distanza, non ci vediamo in live, non più, almeno in passato una volta ero stato loro ospite, perché io appunto sono la voce che emerge dall'oltretomba, dagli inferi, quindi in realtà sono sulle sponde del Flegetonte o del Siofra, se volete, per chi sta giocando Elden Ring, o meglio anzi l'altro fiume, quello un po' più infero, diciamo, però vabbè non stiamo a fare troppi spoiler, ecco almeno in quest'ottica. Allora, arriviamo al punto, comunque insomma mi fa piacere, a parte gli scherzi, a parte le battute, che si vada un po' a chiacchierare di queste cose, tra l'altro molto velocemente, visto che l'altro discorso era se un critico debba conoscere almeno un po' di game design, che l'idea sostanzialmente è sì, idealmente, a meno appunto che non siano discorsi molto verticali su determinati aspetti, su determinate altre competenze, che giustamente il medium videoludico ci si può approcciare in vario modo, però va anche detto che, almeno per mia esperienza personale, le persone che ci arrivano da altri ambiti, almeno in ambito accademico, sono anche poi le prime, spesso, a avere un interesse per approfondire almeno le basi di quello che è il linguaggio del videogioco. Quindi, personalmente, lo vedrei anche come un processo naturale, quando lo si fa perlomeno a certi livelli. Poi è chiaro, appunto, che lì, come sottolineavo in quest'altro video, c'è un problema anche un po' terminologico, diciamo, cioè che io probabilmente, quando parlo di critica, ho in mente un qualcosa che, perlomeno, punta, tende verso un discorso di stampo accademico, che non vuol dire poi necessariamente esser fatto lì nella torre d'avorio dell'università, ma che, insomma, sia fatto con un determinato rigore che venga portato avanti in quest'ottica. Sulle recensioni il discorso sarebbe differente, e anche su forme di critica un po' più popolari. Per me è sempre bene che tendano verso l'alto, appunto, che mi sembra anche una cosa legata poi all'altro argomento di cui volevo così brevemente discutere, dire la mia, cioè questo aspetto dell'educare il pubblico. E qui arriviamo poi al punto, ultimissima cosa, vedendo dei post che giustamente sottolineavano anche il fatto che alcuni game designer, alcuni creatori di videogiochi, proprio in generale, abbiano anche ignorato poi quelle che sono le regole, appunto, dei manualetti. Per carità sono assolutamente d'accordo, cioè, giustamente, ma tantissimi settori, tanti grandi artisti, scrittori, pittori e quant'altro, hanno rivoluzionato quello che era il loro mondo, o perlomeno hanno prodotto qualcosa di radicalmente diverso, proprio ignorando le regole. Poi va detto che in molti casi conoscevano profondamente, quindi proprio per questo andavano a modificare, quindi c'era un discorso. Però, anche se non ci fosse questa conoscenza, ma ci fosse da parte del creativo una sorta di fiuto, di intuito, o anche un caso fortuito, magari che lo porta a produrre qualcosa di interessante, tuttavia, quando si va a parlare dall'altro lato della barricata, quindi la critica, il commento, la recensione, insomma, adesso non fissiamoci troppo, cioè stiamo in un'ottica ampia, bisogna però, allora, anche lì, tanto più, avere un po' le idee chiare per andare a cogliere quest'ottica. Cioè, se io vado a dire, appunto, la tal persona ha fatto un gioco rivoluzionario, incredibile, di grande importanza nella storia del medium, ignorando, modificando alcune consuetudini del game design, magari in quel momento specifico, devo però conoscerle queste consuetudini del manualetto, che veniva citato un po' in termini spregiativi, diciamo. Poi, certo, i manualetti sul versante produttivo lasciano a volte il tempo che trovano, per carità, cioè, giustamente, come in tutte le discipline, si parte dal manuale, ma poi bisogna costruire molto di più. Credo di averlo anche detto in un video in cui parlavo, in realtà, della tesi di laurea, cioè proprio sulla manualistica. Dire, ok, uno può anche partire, proprio come base, recuperando, non so, il manuale di letteratura contemporanea, che ha studiato per l'esame, però per attingervi le fonti che vi sono citate, andare su quello. Quindi, chiaramente, bisogna subito andare a un livello più elevato. Quella è una prima base, certamente. Però, insomma, ripeto, da parte della critica, in molti casi quella, almeno prima base, non sarebbe male, poi con tutti i distinguo e ragionamenti che si possono ulteriormente fare. Però, dicevo, quindi questo si lega alla questione di oggi, cioè educare il pubblico, perché trovo le cose anche collegate, ovviamente, cioè, anche qui, nel momento in cui una persona vuole proporre, appunto, dei discorsi un po' più elevati al pubblico, quindi andando a educarlo, adesso spacchetteremo poi, o almeno ci proveremo, questa nozione, personalmente, secondo me, deve avere anche delle conoscenze superiori, che siano poi, certo, possono essere estremamente verticali su determinati aspetti, però una base orizzontale anche male non fa. Che è difficile, sicuramente, perché, qui l'ho detto tante volte, il videogioco è un medium estremamente stratificato in cui c'è dentro una forte rimediazione anche di esperienze mediali precedenti. Quindi è chiaro che è più complesso se uno volesse veramente, cioè, poter parlare di un videogioco a 360 gradi rispetto a la persona che va a parlare di un romanzo. Perché lì, una volta che si conoscono le basi della narratologia, si conosce quello che è un po' il mercato editoriale, la storia di un determinato genere, che come prodotto, più o meno sia a posto. Poi in molti casi manca anche quello, perché dopo sono tutte cose un po' a sentimento che si trovano in tante occasioni. Adesso sta un po' cambiando anche qui da noi. Credo di aver accennato questa cosa anche nell'altro video. Però, appunto, non indugiamo ulteriormente. Allora, qui vorrei provare innanzitutto a suddividere questi primi due aspetti, cioè, porsi queste due domande. La prima è se si deve educare. La seconda è se si può educare e come. Quindi, innanzitutto, separerei queste due questioni perché non sono così scontate. Allora, il dovere educare qui già sarebbe ampissimo il discorso. Tra l'altro, aggiungo, io diciamo a modo mio mi occupo di educare proprio delle persone. La mia attività lavorativa primaria, direi. Insomma, io insegno, appunto, in diverse università, accademie. Poi ho anche corsi esterni, incontri con le classi, con i docenti, tante altre cose di questo genere. Quindi, diciamo, sono un educatore, ecco, a modo mio. Poi che lo faccia bene o male un altro discorso si può questionare tranquillamente. Però, questo è il mio ruolo, è quello che sono chiamato a fare, almeno in un determinato contesto. E mi piace anche, sicuramente, così aprire un po' questi discorsi anche al di fuori di quelle che sono appunto le aule universitari e gli ambiti un po' più direttamente, strettamente legati a questa attività. Questo canale YouTube l'ho aperto un po' anche in quest'ottica, ecco, per, così, fare qualche video senza poi pretesa di raggiungere chissà quali grandi numeri, anche perché sennò avrei cambiato già alla base radicalmente l'approccio invece che fare queste mie lunghe discussioni, dei montaggi serrati, pillole, sprazzi di discorsi che possano essere condivisi, magari anche con qualche frase un po' così buttata lì che attira l'attenzione. Magari poi, per carità, suscita anche un dibattito, ma che non dà modo poi di spiegare con calma una posizione. Insomma, le cose, secondo me, più si va nel dettaglio e più è necessario avere anche un andamento discorsivo che sia un po' più tranquillo, ecco. Quindi, insomma, altre forme di comunicazione sono un po' più sincopate, ecco. Poi possono avere il loro interesse, sicuramente, dico, non è quello che cerco io, non è quello che inseguo. E quindi si deve educare sì e no, diciamo, già partiamo da questo caso. Allora, cerchiamo di andare in ordine. Allora, posto che ci sono appunto sicuramente degli ambienti che sono proprio predisposti in questa cosa, ambienti anche mediali, dico, cioè una lezione online, un corso, chiaramente ha questo intento esplicito e, insomma, se venisse a mancare questa componente sarebbe un po' un problema. però, appunto, quello è un contesto particolare in cui una persona si trova o per obbligo, quindi la scuola dell'obbligo, a dover fare una determinata attività formativa, educativa, che comunque, insomma, va a insegnargli delle cose. Adesso sto chiaramente semplificando, sto dando molto tagliare a fette spesse, però, giusto per semplificare il tutto, oppure perché sceglie volontariamente quella cosa. Quindi, dico, vado a comprare il corso di formazione tal dei tali che mi aspetto, vada proprio a insegnarmi delle cose perché sono io che ho questa volontà. Tra l'altro, io di corsi ne ho comprati tanti nell'ultimo anno di varia natura, vario ambito, eccetera, sono rimasto tendenzialmente molto soddisfatto e sono, un certo cosa, anche lì, da studiare che a volte vengono anche un po' sminuite, ecco, dall'esterno, poi senza andare su discorsi di specifici corsi o quant'altro, però in linea di massimo una persona, appunto, che decide di formarsi in un determinato ambito, di approfondirlo, ha comunque una volontà in più già in questo senso. Quindi, è anche quella parte sicuramente su cui si deve educare, ecco, cioè c'è sempre un, una parte dell'utenza del pubblico che spesso poi è un residuo, una piccola cosa, il piccolo resto del popolo, quindi anche usando una terminologia biblica, no? Quindi una parte piccola, ristretta, che però è quella che è disposta in questo senso, quindi proprio è pronta a fare uno sforzo aggiuntivo a investire, talvolta economicamente, talvolta anche semplicemente investire il proprio tempo, la propria attenzione per lasciarsi formare, educare, quindi che volontariamente va a inserirsi all'interno di questo patto educativo, che è il patto educativo, ripetiamolo sicuramente, della scuola, ma può trovarsi anche in altre forme, nel momento in cui si riconosce comunque un rapporto di volontà di apprendere, che non vuol dire necessariamente la lezione frontale calata dall'alto, può essere anche un qualcosa di un po' più dialettico, però deve esserci comunque questo rapporto, cioè una persona che impara da un'altra persona e che quindi riconosce a quell'altra persona delle conoscenze maggiori in un determinato ambito, delle competenze, delle esperienze pregresse, giustamente se io dovessi insegnare come si gioca a calcio non sarei assolutamente credibile, perché so, ma la pena che forma la palla e che c'è una porta in cui va calciata, non mi è mai interessato, non l'ho mai seguito, quindi insomma nessuno si fiderebbe di me per il mio curriculum pregresso, per i discorsi che andrei a fare, eccetera, quindi chiaramente mancherebbe quel rapporto, lì chiaramente quindi c'è anche una questione poi di capire dove derivi l'autorità, per esempio, se sia una questione di titolo di studio, che anche lì personalmente ritengo che valga fino a un certo punto, anche questo l'ho detto anche l'altra volta, sicuramente in linea di massima una persona che è laureata in storia dell'arte, facciamo esempio a caso, mi aspetto che ne sappia di più della storia dell'arte, che mi possa insegnare più cose rispetto a un muratore che incontro al bar, magari sa dirmi tutto invece su come costruire un muro in modo che non caschi giù, ma magari non è che passa tutti i giorni pensando a Botticelli, Paolo Uccello e Giotto in linea di massima, poi magari invece quello che ha il titolo di studio, ha passato gli esami così a casaccio col 18, a furia di pedate nel sedere, magari invece il muratore è un finissimo appassionato e cultore di storia dell'arte e saprebbe intrattenermi per ore e spiegarmi tutta una serie di cose, magari legandole anche alla sua professione, magari poi se si va appunto su questioni più architettoniche, magari sa anche poi cose ancora più specifiche, interessanti e curiose, quindi insomma c'è sicuramente questo aspetto e ripeto non ritengo così fondamentale il titolo di studio in contesti non in cui non è diciamo richiesto per legge quindi appunto un mi posso fidare di più sicuramente in linea di massima vedo una maggiore consapevolezza da persone che hanno studiato in un determinato ambito però alla fine poi la verifica la prova dei fatti quello che dimostra la competenza quando si va soprattutto in quest'ottica di formazione quindi di andare a insegnare qualcosa d'altro soprattutto se sono questioni molto poco teoriche molto pratiche è chiaro che insomma c'era questa frase mi sembrava al più la pratica della grammatica quindi bene lo studio però poi è la competenza sul campo che dimostra di che pasta si è fatica poi anche lì poi va anche detto questo cioè non necessariamente chi è bravissimo in una determinata cosa è anche bravo a insegnarla parentesi nella parentesi però insomma quindi torniamo al nostro si deve educare come dicevo sì e no perché sicuramente appunto noi abbiamo questi settori queste aree che sono molto differenziate tra di loro però diciamo in generale della formazione quindi contesti in cui le persone si aspettano questa cosa vuol dire se io adesso aprissi le iscrizioni per un corso su qualcosa che insegno io gratis a pagamento quello che che è le persone decidono di seguire questo corso quindi si aspettano anche se magari ovviamente non è che ci ragionino in modo esplicito però l'aspettativa è quella chiaramente di apprendere delle nozioni di confermare quello che già magari hanno studiato migliorarlo salire al livello successivo apprendere nuove cose eccetera quindi in quel caso c'è questa questo dovere unito a una possibilità è la situazione ideale ottimale quella in cui questo discorso è più facile più spontaneo è anche ovvio chiaramente stiamo anche alla fine un po' ribadendo l'ovvio in alcune questioni ma bisogna proprio come dico sempre partire anche dalle basi del discorso se no poi non si riesce a costruire su niente o qualcosa di traballante una torre di babele di troppe cose insieme che poi casca giù però lì il discorso che si faceva anche nella live che citavo prima non era tanto ovviamente legato a questi contesti ma a un'ottica di grande pubblico quindi ok io non ho davanti questo piccolo resto della massa questa selezione di persone più o meno ampia ma comunque insomma interessato davanti la totalità l'insieme questo magmatico raggruppamento di persone a cui devo andare a dire qualcosa e qui emerge appunto l'interrogativo che dicevano cioè si deve educare anche qui in un certo senso sì però bisogna bisogna capire un po' qui già ci stiamo avvicinando anche anche al come innanzitutto io vedo un rischio piuttosto particolare nel spingere troppo su questo discorso del si deve educare il pubblico eccetera eccetera posto che ripeto è anche qui un sì e un no cioè c'è una parte appunto su cui sono mi trovo anche d'accordo il rischio è innanzitutto quello di prevedere un audience che sia estremamente passiva che è un concetto anche abbastanza superato negli studi appunto sulle audience su come questi pubblici recepiscano i contenuti che arrivano e vanno a farli proprio quindi insomma educare un ampio pubblico ha un po' questo rischio cioè di dire io ti ti butto lì dei contenuti fatti in un certo modo perché ti devo educare e tu li li ricevi così passivamente tu stai lì davanti a uno schermo ti arrivano queste cose in faccia e qualcosa produrranno che non è poi necessariamente appunto l'ottica di chi fa questi discorsi anzi sicuramente si va a pensarlo in tutt'altro modo però in realtà ciò che si si sottende è un po' questo in termini almeno di rischio potenziale quindi vedere un pubblico che appunto che riceve passivamente dei contenuti e che quindi se il contenuto è buono o cattivo diciamo semplificando io vado pesantemente a influenzarlo a impattare su di lui o lei quindi c'è questa questa distanza che rischia a volte anche un po' di essere accompagnata anche da un po' di spocchia ora non è il magari appunto il caso specifico di nuovo ripeto sto facendo dei discorsi generali però cioè l'idea di andare appunto educare un ampio pubblico vuol dire comunque mettersi in una posizione di superiorità soprattutto se poi non emerge neanche con molta chiarezza cosa voglia dire educare questo pubblico perché anche lì io vedo sostanzialmente due due modi due possibilità in cui credo che sia un discorso positivo propositivo e fattibile da fare su un ampio pubblico perché poi lì il problema è sempre anche la fattibilità cioè uno può anche dire educare il pubblico benissimo facciamo finta che siamo tutti d'accordo che sia la soluzione migliore sempre e comunque ma come come lo educo perché giustamente anche le persone di multiplayer che erano presenti in quel live dicono anche sì ma noi facciamo anche il contenuto fatto in questo modo eccetera eccetera lo mettiamo anche lì in home page bene in vista e quant'altro lo spingiamo più che si può e però fa comunque un decimo un centesimo delle visualizzazioni dell'articolo sulla cosplayer di turno banalmente quindi giustamente poi c'è il come e lì se vogliamo appunto c'è anche di nuovo il discorso di prima cioè che è molto più più facile quindi puntare su in realtà una nicchia che sia interessata però andiamo con ordine allora dicevo educare a cosa per un ampio pubblico allora quando ciò è fattibile allora può essere io vedo sostanzialmente due due situazioni due due casi due possibilità una che emerge di più anche calata dall'alto però deve esserci un alto diciamo che sia strutturato in cui io vado a trasmettere quelle che sono delle competenze anche molto di base molto basilari diciamo faccio un esempio esterno al mondo videoludico la Rai quando realizzava tutta una serie di programmi per contribuire all'alfabetizzazione della popolazione italiana che giustamente dice che arrivano tutto questo gruppo di persone che ancora ciascuno ha il suo dialetto parla la sua lingua quindi in sostanza perché alcuni dialetti si sa sono diversissimi tra di loro ce ne sono anche alcuni che contano anche come lingue a sé quindi in un'ottica appunto di crescita nazionale diciamo così si vanno a realizzare questi questi programmi che servono appunto a fornire delle competenze anche molto di base appunto che siano alla portata di tutti quindi non cose di di alto concetto che poi magari si trovano in altri programmi assolutamente però proprio un qualcosa di dire cioè questo è una base qualcosa di molto semplice che io vado a offrire appunto come servizio pubblico quindi anche lì qualcosa di ciò per quello deve essere calato dall'alto anche in un certo modo in affiancamento alla scuola e quindi allora lì emergeva una sinergia anche positiva appunto tra l'ambiente scolastico e che veniva rafforzato anche diciamo da questi da questi contenuti che erano fruiti anche appunto da chi poi magari la scuola l'aveva finita da tempo però guardando la televisione raccoglieva queste queste cose però ripeto un conto è dire di aiuto a imparare insomma l'italiano cosa abbastanza di basilare se devo andare poi su discorsi molto più complessi diventa sempre più difficile parlare a tutti cioè educare tutti perché in quel tutti hai dei livelli incredibilmente differenti quindi più sali su competenze conoscenze verticali e più perdi un'ampia un'ampia fetta di questo di questo vasto pubblico così come invece se rimani sempre solo troppo su un livello di base va bene appunto se fai la base se devi proprio mettere le fondamenta ma non puoi non puoi salire ulteriormente quindi perdi invece quelli che sarebbero interessati a discorsi più mirati strutturati verticali eccetera eccetera che andranno altrove però va bene giustamente appunto se uno lo fa nell'ottica del ripeto il servizio pubblico quello è pacifico e sicuramente fattibile oppure un'altra cosa che già potrebbe essere un po' più vicina a quello che è il potenziale discorso insomma che si andrebbe a fare sul medium videoludico potrebbe essere quello di diciamo fornire in realtà il discorso è abbastanza simile però lo trasliamo in un modo un po' diverso da un'altra parte fornire una sorta di cassetta degli attrezzi con cui poi le persone possano andare a osservare con maggior consapevolezza quelli che sono i videogiochi questo potrebbe essere con un'ottica di educazione del pubblico anche qui chiaramente a un certo livello ci si deve fermare cioè si deve rimanere su un discorso abbastanza di base se si vuole ripeto parlare a tutti diverso è fai il corso mirato verticale specifico lo paghi anche un sacco di soldi hai delle competenze incredibili da persone che fanno danni queste cose eccetera 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 però lì chiaramente si va su il piccolo resto il piccolo gruppo il pezzettino se uno deve andare su la totalità insieme delle persone potrebbe essere però ecco questo un discorso che che capirei ecco perché altrimenti si rimane sempre un po' in balia del non saper neanche dire cosa trasmettere in questo senso cioè dire faccio l'articolo un po' diverso va bene per carità sono molto interessanti sono anche il primo a trovarli curiosi quando sono realizzati in un certo modo cosa che purtroppo l'ho anche già detto in altre occasioni faccio un po' fatica però in realtà a vedere cioè molti molti articoli molti contenuti e per carità parliamo anche più in generale perché poi non è solo l'articolo classico forma scritta molti contenuti alla fine rimangono un po' però sempre lì in quest'ottica cioè del dire facciamo qualcosa di differente ma alla fine questa differenziazione personalmente la trovo poco sarà anche per carità un mio difetto diciamo così cioè che io ho un interesse chiaramente per dei contenuti che siano strutturati in un certo modo che siano basati innanzitutto su delle fonti solide su una ricerca che viene fatta quindi c'è sempre un pregresso noi siamo sempre vero i nani sulle spalle dei giganti o anche quando magari quelli di prima non erano giganti non erano a loro volta nani però già c'erano quindi bisogna comunque mettersi un po' sulle loro spalle per vedere effettivamente più lontano se no alla fine il rischio che vedo in molti casi purtroppo è sempre che c'è magari sì un dalla recensione un po' diversa dal solito l'approfondimento che va in una certa direzione però si rimane un po' sempre lì in un orizzonte comunque che abbastanza piatto quindi anche per quello ripeto a me personalmente un po' stupiva anche questo aspetto di questa po' levata di scudi nei confronti del dire studiare il game design che trovo comunque una cosa in più ripeto con tutto quello che ho detto sul fatto che ci siano sicuramente casi in cui uno può verticalizzarsi eccetera eccetera però sicuramente male non fa anzi è una fonte in più in questo caso non tanto del cito l'autore X l'autrice Y ma conosco appunto un po' più nel dettaglio quello che è il linguaggio stesso diciamo così dei videogiochi con cui viene espressa in cui sono espresse le loro meccaniche poi ripeto adesso non era per tornare particolarmente su questo punto e lo ribadisco ulteriormente e capisco che ci siano anche dei casi dove appunto l'interesse sta da un'altra parte benissimo però anche in quei casi voglio vedere un discorso molto verticale molto approfondito su quell'altro ambito quindi ripeto uno dice vabbè non 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 mi interessa il game design perché io voglio parlare solo dell'aspetto narrativo dei videogiochi va bene mi aspetto allora avere delle basi narratologiche solide toste magari anche poi appunto declinate su quello che è il mondo delle narrazioni interattive vivi tutte queste cose che in tanti videogiochi confluiscono quindi anche immaginando discendere questi aspetti o anche la questione la rappresentazione per esempio dei personaggi anche lì spesso sono discorsi molto così di grana grossa senza 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 conoscere quello che è l'ambito di di quegli studi in cui poi anch'io non sono chiaramente un esperto non è il mio settore specifico però quando mi capita un minimo di interfacciarmi io leggo molto con molto intendo decine di libri decine e decine di articoli accademici di contributi poi allora si inizia a ragionare cioè a capire qual è effettivamente il giro del fumo se no il rischio è sempre appunto che sia così una un'ispirazione del momento un mettere insieme qualche qualche informazione qualche idea così magari anche anche valida ma che non riesce a portare più di tanto sul discorso poi sicuramente sono anche d'accordo è molto sfidante molto difficile poi calare tutto questo in un discorso che sia di nuovo tra virgolette per tutti una grande sfida questo siamo assolutamente d'accordo però insomma il passaggio è questo comunque insomma stavo dicendo quindi la cassetta degli attrezzi ecco questa è un'idea che vedrei ecco in questo senso in termini di di difattibilità poi anche lì però la questione è anche questa di nuovo a meno che non siamo nella scuola dell'obbligo non è detto che questi contenuti arrivino perché anche lì anche in università stessa cioè prendiamo anche l'esempio delle lezioni che faccio io una persona è liberissima di non ascoltarmi poi certo ci sarà un esame quindi andrà probabilmente meglio o peggio in base all'ascolto che ha fatto di quello che ho detto però non è che sia obbligato non è che sono col fucile puntato contro nessuno a far passare quelle informazioni per cui tanto più immaginiamoci appunto su su un sito cioè c'è la libertà chiaramente è giusto che sia così anche dell'utenza anche di ignorare questi contenuti se non hanno interesse per loro cioè per carità nel senso è una libertà del singolo del resto io sono anche interessato appunto a leggermi riflessioni lunghissime piene di fonti e quant'altro però perché sono io tante altre persone non gli interesserebbe nulla anzi io stesso invece poi magari preferisco proprio il contenuto estremamente leggero cioè quello che non mi piace c'è la via di mezzo ecco su quello sono sempre stato un po' un po' refrattario a ciò che sta nel mezzo alla mediocrità non nel senso più forza anche negativo ma di ciò proprio che medio quindi anche i romanzi cioè io o leggo proprio un bel libro oppure se no piuttosto prendo una trasciata senza senso mentre proprio mal scritto mal fatto cose assurde perché almeno mi diverto se il libro il romanzetto come ce ne sono tanti altri è difficile cioè se lo sto leggendo vuol dire che mi sto documentando su qualcosa ma quindi non è un discorso di di piacere personale e quindi anche qui paradossalmente preferirei ecco piuttosto l'articolo così la curiosità strana su un certo videogioco da affiancare invece a un papiro pieno di fonti di riferimenti che vada molto molto in profondità su una certa cosa quello che può essere invece l'articolo così l'approfondimento lo speciale è che magari si va un pochino più in in profondità su qualche cosa ma senza questo discorso che dicevo prima ma in effetti non sempre cattura il mio interesse ecco comunque in che modo quindi possiamo possiamo fare questa cosa alla fine quindi ripetiamo un attimo il discorso perché in effetti poi a me piace molto anche così parlare un po' braccio ecco seguire un po' anche così l'idea del momento quindi rifacendo un attimo il discorso allora si deve educare in un certo senso sì e no quindi sono d'accordo ovviamente che è sempre bello in termini ideali avere una crescita educativa questo sono assolutamente d'accordo in alcuni casi diventa fondamentale in altri casi è un qualcosa che deve essere negoziato perché è chiaro poi che una una realtà a meno che non sia appunto finanziata anche da soldi pubblici per esempio da un qualche mecenate che dice toh tieni questi soldi e fai fai contenuti altissimi che che guardano poche persone almeno all'inizio insomma è chiaro che non è un qualcosa di sostenibile e quindi uno certo può può dire provo a unire un po' le cose ma tutto sommato non si può mettersi a dire il mio primario obiettivo è l'educazione del pubblico o di tutto il pubblico posso magari fare dei contenuti specifici per una parte del mio pubblico quella un po' più interessata quindi seconda questione si può educare e come in un certo senso direi appunto di sì ci sono di nuovo dei contesti in cui si può fare un po' di tutto diciamo perché sono proprio con persone specificamente interessate a questa attività o in un altro senso che sono obbligate a questa attività in altri casi quelle che io vedo come possibilità sono appunto o fornire dei contenuti di base barra cassetta degli attrezzi oppure e questo lo vorrei lasciare come spunto finale una cosa un po' particolare ma fornire dei modelli positivi diciamo quindi anche qui un'educazione barra formazione in un senso un pochino differente ora voglio fare anche qui un esempio di carattere televisivo diciamo che emerge un po' più con facilità probabilmente se si va a vedere quella che è la storia di alcuni programmi televisivi penso soprattutto a determinati quiz a premi quello che emergeva in passato almeno in alcuni programmi parlo di un bel passato era molto l'ottica del diciamo il genio la persona particolare quello che aveva un talento molto molto particolare ecco molto elevato cercando di fare un discorso ispirazionale diciamo quindi proporre dei modelli positivi in senso ampio e quindi comunque persone che vanno dedicato magari tutta la loro vita appunto a studiare una certa cosa approfondire un'altra eccetera eccetera oggi questa cosa si un po' in alcuni casi è rimasta ma in molti programmi cos'è che prevale invece non appunto un modello ma uno specchio una persona sostanzialmente all'altro lato dello schermo che è come me quindi che ha più o meno le mie stesse conoscenze competenze quindi c'è il quiz e allora anche io da casa dico ma questa la sapevo anch'io e ma questo lo sapevo avrei vinto un sacco di soldi fosse stato il suo posto eccetera eccetera così come tantissime altre tipologie di di programmi mutatis mutandis il discorso a volte è un po' anche questo cioè il rischio che vedo anche qui è che la la persona diciamo che è anche potenzialmente chiamata a educare o che vuole mettersi in quest'ottica sia un po' uno specchio della sua utenza del suo pubblico perché o non ha competenze effettive in più o magari non riesce a farle emergere magari invece è estremamente sapiente esperto e quant'altro ma non può non può farlo o non può perché non riesce nel senso diciamo personale o magari perché si trova appunto in una realtà dove bisogna anche abbassare il livello e quindi è chiaro poi che anche lì ci siano queste ci sia questa credine anche da parte del pubblico stesso e quindi si trova anche a dire ma lo saprei fare anch'io no il giornalista di videogiochi il recensore di videogiochi il critico perché tanto è così una guerra di opinioni questo è quello che passa in molti casi quindi di nuovo è un rischio per cui dicevo cercare secondo me di fornire quello che è un modello che oggi è più facile dal basso che dall'alto almeno in un contesto come quelli che stiamo dicendo a meno che non ci siano dei cambiamenti radicali in termini di società di educazione cosa che io spero soprattutto in ambito educativo perché insomma stanno emergendo diversi diversi problemi ecco sicuramente legati anche a pandemia covid e compagnia cantante che non hanno aiutato però insomma che che la scuola ecco stia attraversando dei momenti problematici è è vero purtroppo e lì quindi è un discorso molto più ampio su cui non si può neanche intervenire cioè anche immaginando che tutte le testate di settore tutti i player del settore videoludico si mettano insieme d'accordo per fare una determinata cosa cosa che vedo proprio come fantascienza però facciamo finta e non cambierebbe comunque molto finché il livello poi in termini più ampi rimane strutturato in un certo modo quindi lì effettivamente sì dovrebbe esserci un cambiamento molto più radicale vedremo cioè non sono così ottimista però siamo su discorsi che sarebbero veramente lunghissimi e eterni che non intendo affrontare in questa sede quindi ripeto comunque a meno che non ci siano cambiamenti radicali si riesce molto di più a fare dal basso diciamo se si è piccoli operazioni di questo genere proprio perché si può andare molto più mirati su determinate nicchie di utenza tipologie di pubblici quelli quel piccolo resto che dicevo prima posto che comunque in realtà io trovo che ci siano anche dall'alto degli esempi virtuosi avvenivano citati anche in quella live cioè il fatto che poi certo anche all'interno del sito contenitore con varie cose ci sono chiaramente le news quelle che portano attenzione portano traffico portano anche soldi e ci sia poi il contenuto più ricercato qualitativamente più strutturato poi anche lì uno può ragionare su fino a che livello spingersi diciamo con quest'ottica della qualità ho detto io stesso a volte non ho particolare interesse per questi contenuti ne preferisco di ancora più elaborati però effettivamente ci sono chiaramente parlano a una piccola parte non è però un discorso autoreferenziale comunque cioè non è che parlo sempre solo agli stessi perché comunque il contenuto è lì quindi posta la libertà del singolo dell'individuo che lo riceve di rifiutarlo totalmente di ignorarlo però si vanno comunque a lanciare a gettare dei semi qui vediamo la parabola del buon seminatore no non è che tutti i semi che vengono lanciati diano poi frutto che ci sono quelli che vengono mangiati dai corvi quelli che finiscono tra i sassi che rimangono lì però poi c'è anche appunto il seme che cade nel giusto terreno dà buon frutto e quindi magari poi porta tassello dopo tassello pezzetto dopo tassello tassello due volte insomma pezzetto tassello quello che è le persone a essere interessate ad approfondire ulteriormente questi discorsi man mano nel tempo però non è un qualcosa appunto che può essere imposto cioè potrebbe essere imposto se arriva veramente lo Stato e dice adesso si studia questa cosa adesso si fa questo per obbligo di legge quella è l'unica diciamo imposizione che funziona però insomma non è molto fattibile ecco perché uno può mettere il contenuto in prima pagina spingerlo il più possibile eccetera eccetera ma colpirà comunque sempre una piccola parte poi certo tanto più ovvio che se un sito una pagina sono seguiti da milioni di persone è chiaro che in percentuale questo piccolo resto sarà un po' più elevato rispetto a una pagina che ha magari metà delle visualizzazioni a meno che la pagina che metà delle visualizzazioni non abbia già un pubblico molto più selezionato quindi sono i soliti discorsi proprio di corrispondenza molto banalmente tra quello che è il contenuto e quello che è il target a cui a cui si sta rivolgendo però effettivamente cioè già ci sono queste cose e il fatto che vengono però seguiti da pochi vuol dire che fanno anche poco rumore diciamo così però ci sono crescono sono appunto questi semi che silenziosamente con calma gettano poi radici e generano piante quindi io personalmente è questo che vedo come possibilità che mi rendo conto rimanga comunque un pochino generica come cosa ma volutamente perché poi ciascuno ciascuna persona andrà poi a declinare questa cosa in quello che è il suo ambito sulla sua piattaforma eccetera lì semmai capisco in realtà quella che è la domanda sottostante cioè non tanto appunto come si può fare questa cosa ma come si può fare rendendola economicamente sostenibile cosa che non sempre è possibile questo è chiaro bisogna riuscire appunto a trovare una nicchia sufficientemente ampia interessata e disposta a pagare per dei contenuti che non è facile mi rendo conto anche per questa per questi differenti livelli di di interesse cioè io pagherei tranquillamente per per tanti contenuti ma di quelli che interessano a me che quindi sarebbero anche tendenzialmente molto più voglio dire ragionati ma non è il termine giusto perché anche gli altri sono sicuramente ragionati ma appunto basati su una ricerca particolare molto più mirati approfonditi di quelli che vedo in tanti casi quindi niente questo questo è quanto insomma dare essere farsi un modello ecco fare se stessi come modello positivo in quest'ottica per le altre persone trovarsi degli spazi in cui sia possibile gettare questi semi però con la consapevolezza che questo è cioè che si possono appunto gettarli vedere chi li raccoglierà qualcuno ci sarà qualcuno appunto fruttificherà molti altri no e se non si ha questa consapevolezza il rischio appunto è quello di cadere nella frustrazione o un po' in questa sorta di battaglia ideologica cioè che in termini così potenziali sarebbe molto bello appunto un mondo ipotetico in cui tutti approfondiscono tutto non lo vedo molto fattibile se non in quei casi un po' particolari che dicevamo prima di interventi dall'alto piuttosto intensi ecco comunque questo è quanto vedo che sono fatto quasi un'ora di chiacchierata grazie ai pochi matti che sicuramente sono stati a sentire fino alla fine i miei 25 ascoltatori in senso manzoniano per fare una citazione al prossimo video